Due regali, due regali Uh, voglio quello Sì, l'ho visto, l'ho visto Vai, corri, 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 corri Clicchi con il tasto Ok Ehi ragazzi, come va? Io sono Fieriniki E io sono Steph E che si giochiamo a Roblox E come non potevamo tornare su Pokémon Go Guardate la mappa, ragazzi È davvero fantastica È tutta sbrillucicante E ovviamente a tema Halloween Guardate le Pokéball Guardate le Pokéball Io non ho parole Ma stai già facendo vedere tutto Io volevo tenerle come sorpresina Ma no, dai, la zucca Andava fatta a vedere subito È fantastica Ma tu te li immagini Andare a catturare Pokémon con delle zucche Epico, epico Comunque, oltre all'aggiornamento della mappa Dovrebbe ho fatto un po' di aggiornamenti Ad esempio lì alla tua sinistra Ovvero dietro di te, anzi C'è la possibilità di scambiarsi Pokémon Uh, bello Però non so bene come funziona Lo andremo a provare Quindi ci sono un po' di cose Ci dovrebbe essere un po' di Pokémon Che non c'erano quando giocavamo noi Ok Quindi proviamo un pochettino la mappa Dopodiché andiamo su Detran E facciamo un po' come con gli escape Metà video su un gioco Metà video sull'altro Quindi facciamo un papamma Perché giustamente ormai Stanno iniziando i video a tema Halloween Siamo vicinissimi Quindi giustamente dovremmo fare tutte le mappe Iniziamo Sì, andiamo Andiamo in giro Vediamo se troviamo qualche Pokémon Non ho capito cosa sono queste facce Le ho viste prima E non mi sono riuscita a spiegare bene che cosa sono È la faccia di Shining Cioè ma non capisco per quale motivo Allora Guarda che hanno aggiunto Cos'è? Praticamente Sì, vabbè Quanto costa? Tipo 1200 Robux Vabbè No, mi sembra eccessivo il prezzo Preferisco aspettare Guarda, non ti preoccupare Preferisco aspettare Comunque praticamente cliccate qua Comprate, spendete i Robux E compare Mewtwo da catturare Lo vorrei tanto prendere Ma sinceramente No, costa troppo dai Costa troppo Lasciamo perdere Lasciamo perdere Guarda chi c'è Guarda Mr. Mime Se lo prende Vai, prendilo, prendilo L'hai visto prima tu Prendilo tu Sì, sì, sì Così se io vedo un po' Ciao, bellino Almeno me lo posso prendere Molto carino Ti abbiamo preso anche su Pokémon Go Guarda la zucca che flutta Bellissima Bellissima Prima cattura di oggi Mr. Mime Perfetto Mica male, mica male Allora, buongiorno signore Lei chi è? Salve Questo è il sospetto Guarda come è scappato Ma come scappa, scappa Sì, sì, sì Secondo me ci ha appena rubato un bel Pokémon Molto probabile Molto probabile Questo è Non capisco se è PJ normale o pigiotto PJ, PJ Non mi ricordo se l'abbiamo mai preso Sinceramente No, credo di no, lo sai Credo proprio di no Anche secondo me Secondo me non lo abbiamo Quindi vedi Sinceramente sta andando già un po' meglio Però una volta è utile trovare un PJ Probabilmente È vero Prima e unica volta in cui è utile Esatto Dicevo, probabilmente ne stiamo vedendo pochi Perché comunque la mappa è diventata più buia E quindi è un po' più difficile trovarli Sì, 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 sì Ti pare se non trovo neanche più a te Figurati i Pokémon No, è vero Anch'io ti perdo in continuazione Ti ho perso Perché Cos'è quella cosa? C'è questa nebbia di Halloween Aspetta, c'è qualcosa di strano Dove? Dove sei? C'è un gatto nero Che dice parole a caso Ma dove sei? Aspetta, dimmi, dimmi Sono nella zona iniziale, al porto Credo sia un tipo un animaletto Che ti puoi comprare Ho rubato totalmente da un tizio che c'era qua Un pacchetto regalo C'è l'ha rubato? Sì, guarda, capita un Pokémon a cap Proprio stessa delusione di quando apri le uova Trovi una schifezza, guarda Molto simile Sì, ma ci sono rimasto male Perché qua, invece dell'uovo È proprio un pacchettino Super bellino E lo so, però è bello che si possano trovare i pacchettini Anche questi sono sicuramente degli ultimi aggiornamenti È uno degli ultimi aggiornamenti Sono abbastanza rari Però si possono trovare E ti dà un Pokémon totalmente a caso Non credo che ci siano i Pokémon leggendari Tra quelli a caso che puoi trovare E beh, giustamente Però comunque si riesce a trovare un sacco di roba bellina bellina È bella come idea Dai, carina Andiamo nei vicoletti Andiamo nei più possibilità di trovare Pokémon Molto, molto bello Esatto Andiamo qua nei vicoletti che c'è meno gente Esatto Perché è pieno di persone Vieni Non so che cos'è ma qua c'è un'aurea strana Prendo No, l'ho mancato Cos'hai visto? Prendilo tu al posto mio Arrivo, 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 arrivo Uh, bello Che cos'è? Gasly? No, no, l'ho mancato Ok, preso L'hai preso tu Perché ho visto quello dietro di te E mi sono davvero spaventato E tu vuoi vedere che ce l'hanno rubato Infatti appena sono arrivato L'ho totalmente mancato Eh, anch'io Era bellissimo L'ai vista l'aurea che faceva Nei vicoletti va benissimo andare Perché non tutti li controllano Non tutti li controllano Esatto È fantastico Comunque nella spiaggia adesso si può trovare Magikarp Guarda c'è uno dish C'è uno dish C'è uno dish Oh, lo voglio E me l'hai preso Oh, io non ho trovato nulla Level up Adesso sei livello 6 Ok Hanno messi livelli Dov'è il livello, scusami Non lo so Non lo so Però sei livello 6 Ciao bel rattata Sei molto bellino È l'unico gioco in cui il rattata è bellino Sono molto offeso E scusa dai Non ho trovato nulla Dammi almeno un rattata di consolazione Ma mentre dicevo che era bellino È proprio un po' antipatica come mossa Però ti perdono giusto perché è rattata Grazie È bello Proviamo a fare uno scambio Vediamo come funziona Ok, ok E vediamo cosa succede Allora, io mi metto da questa parte Così io sono blu e tu sei rosa Ok Ehm Come hai fatto a posizionarti sopra? Ci sono semplicemente passata sopra A me non funziona Oh mio Dio, l'ho vista L'ho vista Non te lo posso lasciare perché Se no arrivano gli altri Prova a correre Prova a venire Prova a venire Sono al ponte Arriva Se vedo qualcuno Penso di aver sbagliato pure strada No, vabbè No, prendilo però Qualunque cosa così È scomparso Cos'era? Era Evie No, no Ma come? Io te lo volevo lasciare Ma come scompare? Sì Io non la sapevo sta cosa Che dopo un po' scompaiono Sinceramente Pensavo Non anch'io Solo che dopo che vengono catturati Esatto Uh, guardalo Che bellino Pensavo anch'io dovessero essere catturati Però vabbè Vorrà dire che scompaiono pure Bisogna essere molto molto veloci Che tristezza Era bellissima Era qua all'inizio del ponte Super carino Vai, prenditi quel Weedle Che ce l'ho già pure Però vabbè Dai Per consolazione Mi accontente Ne è comparsa anche un altro qua Me lo son preso Dai, giusto Perché così ce l'avevo anche io Due regali Due regali Uh, voglio quello Sì, l'ho visto L'ho visto Vai, corri, corri, corri Clicchi con il tasto Ok Dai qualcosa di bello Ok, dai qualcosa di bello Qualcosa di bello Io Pikachu Su, 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 su Dai Vediamo Ne ho visto un altro Butterfly Ok, ok Ce l'avevi già? Sì Allora, una schifetta Quindi, un po' di sfortuna Insomma, vabbè Dai, dai, dai Una roba bellissima Ti stavo per dire Ci credi che ti stavo per dire? Speriamo in Ninetales Ci credi? E nel momento in cui l'ho pensato Si è formato lì Oh mio Dio Bellissimo Bello Lasciami questo Esatto Un bel PJ No, fammelo vedere Aspetta Aspetta, lo voglio guardare Mamma mia, che bello Ci sono questi tre regalini Uno a fianco all'altro Ma allora si trovano spesso i regalini Eh sì Guarda, l'ho messo tra i miei preferiti Perché è talmente bello Guardalo E ci credo Pesa 20 chili Wow Prendere in braccio Ti si staccano le braccia Esatto Ti crollano Sì Ci fermiamo così per questa mappa Quindi adesso ci spostiamo su Deadrun Dove hanno aggiunto due mappe Dedicate totalmente ad Halloween Che non vediamo l'ora di provare Qua è stato molto carino Hanno fatto un bel aggiornamento Sono soddisfatto Però ci dovevano regalare Mewtwo Sì Assolutamente Noi non ci possiamo permettere 1100 Robux Però Visto che abbiamo Capitan Jeff e Signor Maialino Dovevano lasciarcelo Esatto Sono molto d'accordo Eh Quindi se ci state guardando Mandate un regalino Oh mio dio Ma che cos'è questa mappa È un cantiere Ma allora è nuova E non c'entra nulla con Halloween Bellissimo Non mi inter... Uh sono killer Sono killer Allora 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 Vediamo Vediamo Non è giusto Io non la conosco Non è giusto Non ho idea di cosa devo fare Ok Oh mamma mia Questa era bellissima Ti ho ammazzati tutti vero Era bellissima Io non so cosa fanno Ripeto Non ho idea di come mi devo comportare Aspetto quando passi tu Eccomi Oh Dai no Ho fatto Le faccio la finta Tanto sarà Qualcosina di sobrio No sono bellissime Aspettami Aspettami Sì sta arrivando Sono bellissime Allora Ok Ok ci siamo Sì Dai aiutami Aiutami a fare un buon lavoro Beh qua succede qualcosa in quelle righe no Vai Sicuro Ora Uh ok Mi hanno fregato Mi hanno fregato No non lo so ripeto Questo in questa gratta Uh Ma no Sta battendo in velocità eh Eh sì Mi raccomando Mi raccomando Concentrate adesso Ne hai solo quattro vivi Quindi devi stare concentrata Che devo fare secondo te Uno si è ucciso da solo Secondo me inverti La direzione di queste scattole Ok Ah no esplode quella cassa rossa Dici Eh forse sì Allora aspetta che passi Eh tanto loro più stanno lì più arriva la mano Uno si è riammazzato da solo Ok E anche quello si è ammazzato da solo Ho vinto La vittoria più semplice Però sono un po' arrabbiato io Perché? Eh mi ha ucciso Perché ti ho fatto arrivare Quelle Quelle È stata proprio una morte crudere Quelle trattore o quello che è Eh no ma aspettavo neanch'io quella Ti dico la verità Non mi aspettavo fosse così la trappola Ah ma qualcuno è killer Allora va bene Allora va bene sì Venite belli Venite che ci abbiamo gli squaletti Li ho sprecati Eh ho notato Ho notato Non mi ricordavo che stessero così indietro Quegli squaletti Eh anch'io mi ricordavo fossero un po' più avanti C'è il diamantino Quindi adesso voglio vedere chi è il pazzarello Che va a prendersi il diamante L'impavido che riuscirà a prenderlo Schiatta Vai No Mi sono dimenticata di cosa ci fosse Mi ha preso in pieno Ho notato Ho notato Me ne sono totalmente dimenticata Mamma mia si è rischiato C'è un impavido che voglio far secco Cioè sta facendo fisso il pazzarellino E lo voglio ammazzare assolutamente Adesso ti guardo Ti guardo e vediamo un po' come va Dove è andato Vediamo Vai 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 Bravo bravo Sì sì nessuno ti sta guardando Schiatta Sì lui è impavido in tutte le mappe Sta giocando con il da un po' Va proprio dritto Ora non c'è più Ora non c'è più Perché ha trovato un killer davvero spietato Che riesce a farlo fuori Esatto Allora vediamo Questa era quella Boh Allora credo sia lì Perché loro si sono formati lì Sì esatto Mi hanno fatto capire dove era la trappola Io non l'avrei mai attivata Succede qualcosa lì in mezzo di sicuro Sì Vai Ah è bellissimo questo Secondo me non c'era Lo sai Lo sai che l'hanno aggiunta Secondo me Può essere perché è davvero troppo facile Finirla questa mappa Zolazza via Grazie Ok perfetto È rimasta solo una ragazza Una donzella Che va per la legge Chi va piano va stanno e va lontano Esatto Aspettate che tutti si sacrificassero Mi sembra pure giusto Sì 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 Bravissima signorina Vada nel ponte Non succederà nulla di male No Eh Sta venendo a cercarmi Sì perché si è tirata la pozione nei piedi Sta venendo a cercarmi Oh mamma mia È stata brava È stata davvero brava Abbiamo un problema Scappa Nasconditi Nasconditi da qualche parte Ok Nasconditi Trovo un nascondiglio perché altrimenti ti uccide Ma ti sembra un buon nascondiglio Sì sì Oh mamma mia Mi ha visto secondo te Sì ce l'hai dietro No È stato geniale però È stato geniale Non si sarebbe mai aspettata che eri nascosto dietro un angolo bellissimo Bellissimo Almeno l'ho fregata Quindi in parte sono soddisfatta Esatto 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 Ok non ci capita niente altro Sinceramente avevo anche il dubbio Che ci sia qualcos'altro Quindi ci giochiamo questa E ci fermiamo Tanto sono belle tutte comunque Esatto Radate Halloween Sono davvero bellissime Attenti alle manine Attenti alle manine Aspettiamo che passino E poi continuiamo Scusate manine Non fate le antipatiche per favore Allora qui succedeva una cosa strana I pesci Le lische di pesce Esatto E lì c'è il ponte che crolla Quello lì si è salvato con un bug incredibile Non ci posso credere Si è incastrato Ma che fortuna che ha avuto E per la mascalzona la vedo griglia Questa era bella Lo vedi che comunque è il pazzarello Che ho ammazzato io prima Che continua ad andare in perterito Sì E no è super impavido Faccio impare tutti Perché va troppo veloce Quindi nessuno riesce a seguirlo Esatto esatto E quindi gli altri avanzano Capito facilmente come noi Che siamo qua Non fare nulla Continuiamo ad avanzare Esatto È bellissimo Infatti guarda Bravo Meno male che vai sempre avanti Meno male Meno male La tipa si è arresa Mi sa Perfetto Tutti praticamente Comunque ragazzi Ci fermiamo così Per questo video Speriamo che vi sia piaciuto Questo mashup Di due giochi Dedicati entrambi Ad Halloween Hanno fatto un buon lavoro Halloween Hanno fatto un buon lavoro In entrambe le mappe Perché comunque È impegnativo Dover preparare tutto Arredare così Sembra banale Mettere delle zucche Un po' di decorazioni Però comunque Sono ore di lavoro Che noi apprezziamo tantissimo Perché queste ambientazioni Le adoriamo E speriamo che siano piaciute Anche a voi Spero che si riuscite Così Si è giusto Sentici un bel like E se è la prima volta Che vedete il nostro video Potete considerare L'idea di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao E alla prossima Ciao Ciao Ciao